Spaventoso incidente stradale ieri sera sull'Ai45 all'altezza di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, attorno alle 20.30. Un auto articolato che percorreva l'Ai45 in direzione nord è infatti uscito fuori strada per cause ancora da accertare ed ha fatto un volo di oltre 10 metri finendo nel Tevere. Il camionista originario della Romania ma residente ad Avellino è stato estratto dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco ed è stato affidato ai sanitari del 118. Siamo andati con il 118 dall'altra parte del fiume, l'abbiamo tolto dalle lamiere e consegnato ai soccorsi per le successive operazioni. L'uomo è stato trasportato immediatamente all'ospedale San Donato di Arezzo, è ferito ma è sempre rimasto cosciente, era stato allertato anche il Pegaso ma non ce ne è stato bisogno. a lanciare l'allarme degli automobilisti di passaggio sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge. Non sappiamo ancora quali sono le cause che hanno causato questo incidente, sono in corso accertamenti per poter accertare quanto è accaduto.